La primavera si avvicina, ma è ancora presto per mettere nell'armadio i piumini. Sono in arrivo infatti temperature polari nel nostro territorio. Da domenica, spiega l'ARPA, una massa di aria gelida proveniente dall'Artico darà inizio anche sulla Lombardia a una fase invernale acuta e anomala, caratterizzata da temperature fortemente inferiori alla media. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Regionale, la colonnina di Mercurio segnerà un brusco calo, circa 5-7 gradi rispetto a sabato, con valori massimi in pianura vicini ai 3 gradi al mattino e diffusamente inferiori agli 0 gradi la sera. La giornata più fredda però sarà quella di martedì, dove nel nostro territorio le temperature andranno da una minima addirittura sotto i meno 5 gradi e una massima non oltre lo zero. Il freddo anomalo dovrebbe perdurare almeno fino a domenica 4 marzo. Al gelo, nelle chiese, potrebbe accompagnarsi anche la neve. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità, codice giallo, proprio per questo pericolo. Coinvolte le nostre prealpi, ma i fiocchi potrebbero imbiancare anche alcune zone di pianura. Proprio a causa della prevista ondata di freddo estremo che colpirà la provincia di Lecco nei prossimi giorni, l'Ario Reti Holding invita tutti gli utenti a proteggere i contatori dell'acqua, evitando così il pericolo di rotture o interruzioni dell'erogazione, anche perché a pagare la sostituzione nel caso sarebbero i clienti. Per i contatori in nicchia, esterni all'immobile, si consiglia di coibentare lo sportello con polistirolo, lana di roccia o di vetro e altri appositi materiali termoassorbenti. Allo stesso modo, per i contatori interrati, si suggerisce di isolare il portello o il tombino. È vivamente sconsigliato l'uso di stracci o coperte, in quanto, se bagnati per condensa o perdite, renderebbero il contatore ancora più soggetto al gelo. Per gli immobili poco usati, seconde case, casolari, ecc., l'Ario Reti Holding suggerisce di chiudere la valvola a monte del contatore per poi svuotare l'impianto aprendo un rubinetto il più in basso possibile all'interno dell'immobile, così da assicurare un completo svuotamento delle tubazioni. Se, nonostante tutte le precauzioni, il contatore gelasse, è assolutamente sconsigliato utilizzare le valvole di afflusso e chiusura o tentare lo scongelamento con fiamme libere o fonti intense di calore. Lo stress provocato all'impianto potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. L'ideale in questi casi è coibentare il contatore e le tubazioni con materiale adeguato ed eventualmente scaldare le tubazioni con un asciugacapelli a bassa temperatura. Infine, qualora il contatore risultasse rotto o guasto, è necessario mettersi subito in contatto con l'Ario Reti Holding tramite il numero verde di pronto intervento gratuito 800-894-081, attivo 24 ore su 24, affinché si attivi la procedura di sostituzione o riparazione. Grazie a tutti.